Stiamo lavorando per cari maestri, stiamo lavorando per l'evento d'arte contemporanea leader in assoluto in Italia, lo stiamo facendo con le istituzioni, stiamo facendo con la curatrice del museo Il Correggio, Francesca Manzini, stiamo facendo con la curatrice Giuseppina Valla e lo stiamo facendo qui a Correggio, a Palazzo dei Principi, dove vi aspettiamo il 14 ottobre, sabato 14 ottobre alle 16 per l'inaugurazione. Tantissimi maestri dell'arte contemporanea italiana fra i più importanti in Italia e fra i più conosciuti e importanti al mondo per il mercato, per i musei, per le istituzioni, con una parte dedicata a maestri storicizzati in primo piano e con la dedica a Serafino Valla con una personale nel contesto di questo evento del maestro Serafino Valla. Quindi vi aspettiamo qui a Correggio per una mostra che va dal 14 ottobre al 26 novembre, una bibliografia importante. Vi aspettiamo qua a Correggio, stiamo lavorando per voi e per l'arte contemporanea italiana.